L'anno scorso è andata molto bene perché nonostante problematiche Covid che hanno limitato tantissimo l'organizzazione, però siamo stati gli unici in Italia che hanno potuto ripetere il concorso, che ha la sua tredicesima edizione. L'anno scorso siamo riusciti ad iscrivere 52 persone, diciamo, pittori, 25 dei quali venivano da 12 regioni italiane. Quindi comunque un grande successo. Quest'anno siamo a ripetere il concorso per la tredicesima volta, è un concorso molto interessante agli occhi di chi partecipa e comunque anche per altre organizzazioni che cominciano a prendere spunti da questo concorso. Gli abbiamo dato una formula molto interessante perché oltre a fare un concorso per gli adulti, diciamo, che è un concorso a tecnica libera, quindi chiunque si iscrive può partecipare a tecnica libera, facendo tecnica libera. Ci sono anche un concorso per i giovani talenti che sono i ragazzi fino a 14 anni che partecipano a un concorso proprio. I premi sono interessanti perché 1.200 euro è il primo premio, 500 il secondo, 250 il terzo e 300 euro è il premio Emma Corvo che si ripete anche quest'anno. Voi sapete che il concorso ormai da anni è dedicato a Monacciani che è colui che l'ha inventato e noi l'abbiamo ripreso dopo 47 anni. Però siccome è stato con noi il nostro presidente Mario Logli, diciamo, ha lasciato un ricordo indelebile e ci ha fatto crescere tantissimo e abbiamo voluto dedicare il primo premio, che l'abbiamo chiamato premio Mario Logli, appunto al vincitore. Sono passati 13 anni, un sacco di tempo da quella volta che ci siamo ricordati questo concorso quando eravamo bambini e abbiamo deciso di ridare vita. Prima con una dimensione quasi parrocchiare, cittadina poi si è allargato alla provincia, poi alla regione. Oggi dobbiamo dire che è cresciuto tantissimo e quindi ci sono partecipanti un po' da tutta Italia e possiamo dire che nella sua dimensione è anche un concorso a livello nazionale. Cominciano ad esserci anche dei professionisti che vengono a esprimersi e quindi per noi è motivo d'orgoglio e anche un convincimento nel proseguire per i prossimi anni in questa direzione. Per iscriversi possono recarsi chiunque al circolo del porto in via Cecchi 22, è possibile ritirare il regolamento e la scheda di iscrizione e lasciarla lì. L'iscrizione è un contributo di 10 euro gratuita per chi ha fino a 16 anni ed è aperto dalle 17 alle 23 di tutti i giorni. Un altro modo per iscriversi è andando sul sito www.quadelport.it, si scarica la scheda e la si rimanda. Per coloro che vengono da fuori in zona e da lontano possono invece telefonare ai numeri che diciamo che sono, che leggete sopra la locandina, dove ci si può iscrivere anche telefonicamente. Il concorso inizia sabato 3 luglio a partire dalle ore 8. Inderogabilmente le opere si presentano entro le ore 16, chi non si presenta entro quell'ora deve essere escluso, si possono timbrare due tele ma presentarne una sola. Ripeto, tecnica libera.